Buongiorno, buongiorno. Come on, è molto buon ice cream, come on. Buongiorno, salve. Venga, venga. Il cucchiolato è più famoso qui. Come on, è molto buon ice cream. E mire, abbiamo dei vanili con il cioccolati. Cioccolati, avellana, creme caramelle, ramen brazos, e questa è una buona mix, vanili, chocolate e hazelnuts, ok? Ok. Ciò si è molto buon. Ciò si è molto buon farmiale. Di questo il strato e ciò? E inveceonasera.